Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. In apertura c'è la cronaca con due interventi del soccorso alpino. In mattinata alle 10.30 a Nimis un uomo è stato colpito da un ramo mentre faceva della legna assieme al padre poco sotto il passo di Monte Croce tra Attimis e Nimis. Il ferito residente nella zona con trauma cranico è stato raggiunto dai soccorritori della stazione di Udine assieme ai vigili del fuoco e carabinieri e con l'equipe dell'eliambulanza è stato stabilizzato e trasferito in ospedale a Udine. Ancora soccorso alpino è intervenuto nel pomeriggio per un turista tedesco precipitato con il parapendio dal monte poco dopo il decollo della zona del Valinis a Meduno. È stato anche lui trasportato con l'elicottero in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La caduta è avvenuta probabilmente a causa di un'errata manovra. L'uomo è precipitato violentemente al suolo riportando diverse lesioni sul posto inviate l'eliambulanza, l'ambulanza normale e anche i carabinieri della stazione di Meduno per ricostruire l'accaduto. Continuiamo con la cronaca. Un 32enne di San Daniele è rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto stamattina nella cittadina colinare lungo la strada regionale 463. Secondo la prima ricostruzione l'uomo viaggiava su una vespa ed è finito contro un furgone che era davanti a lui. L'ideco Odeili si era fermato perché il veicolo che lo precedeva era in attesa di poter svoltare. L'urto tra lo scooter piaggio e il mezzo è stato violento. Il 32enne ha riportato seri traumi in particolare al torace. È stato stabilizzato e trasferito da prima in ospedale a San Daniele e successivamente a Santa Maria della Misericordia. E' ancora uno scontro lungo Viale Palmanova a Udine, sempre nella tarda mattinata di oggi. Un motociclista, vedete l'immagine, ha tamponato a una Volkswagen Golf. L'incidente è accaduto alle 12.40 quando il giovane conducente al volante dell'auto non è riuscito a rallentare la sua corsa in tempo andando a collidere contro la due ruote che lo precedeva sul posto. Sono intervenuti i sanitari con l'ambulanza e l'automedica, i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi. Fortunatamente non gravi le condizioni dell'uomo rovinato a terra, un udinese di circa 60 anni. La polizia di stato di Udine invece ha dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dalla procura generale di Trieste nei confronti di un 45enne originario della zona collinare di Udine che deve scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione. Si tratta di una somma di condanne, la prima riguardante una truffa perpetrata nel 2011 nell'ambito di una compravendita di un veicolo, la seconda in quanto ritenuto colpevole in concorso della vendita al dettaglio di alcuni comuni dell'interlandudinese dell'importazione di cocaina dalla Spagna. Nell'ambito dell'indagine compiuta tra il 2013 e il 2015 all'aeroporto di Milano Malpensa il personale aveva sequestrato un importante quantitativo di stupefacente. Ed ora torniamo sulla questione delle disinfestazioni West Nile che a Tolmezzo ha visto ieri notte la protesta dei cittadini circa un centinaio scesi in strada che hanno bloccato la disinfestazione. Era previsto per la notte scorsa a Tolmezzo il trattamento di disinfestazione contro la zanzara portatrice del virus Usutu ma una protesta cittadina ne avrebbe impedito l'operazione per la seconda volta. Sì perché il primo intervento era stato fissato per il 26 agosto ma a causa dello svolgimento di un evento il trattamento era stato sospeso e posticipato alla notte tra il 5 e il 6 settembre. In questo caso però ci ha pensato un gruppo di manifestanti ad annullare la disinfestazione. Circa un centinaio di cittadini provenienti anche da altri comuni della Carnia che nella serata di ieri si sono dati appuntamento vicino alla piscina e altre zone come quella del campo sportivo, dell'ospedale e delle scuole che dovevano essere interessate dal trattamento e che come da programma doveva iniziare le 23.59. Tanti manifestanti che prima di quell'ora già si aggiravano attorno all'auto della ditta incaricata dalla regione e che hanno quindi impedito all'addetto di proseguire l'azione di trattamento. Sul posto a monitorare la situazione sono intervenuti anche i carabinieri. La folla di manifestanti ha spiegato che l'azione di protesta è stata portata avanti dal momento che vi sono ancora forti dubbi ed incertezze sull'utilità dell'intervento e sulle ripercussioni dei prodotti utilizzati sulla salute pubblica ed animale, hanno fatto sapere. Si resta ora in attesa di nuove disposizioni da parte dell'amministrazione comunale su un'eventuale riprogrammazione del trattamento. Andiamo a vedere i numeri di giornata sul fronte del Covid su 2.404 tamponi effettuati, di quelli di tipo molecolare, 92 contagi, 3.339 test rapidi con altri 587 positivi. Il rapporto rimane attorno all'11,8%, stabili le terapie intensive a 2,137 ricoveri negli altri reparti. Ci sono state altre 5 vittime. Oggi era anche la giornata dei test per l'ammissione alle facoltà di medicina e chirurgia in tutta Italia. Noi abbiamo fatto il punto della situazione per quanto riguarda l'Ateneo di Udine con il responsabile del Dipartimento che ci ha spiegato i numeri e le possibilità. Grande giorno, questo per l'Università di Udine, le prove e il test d'ingresso per medicina. Il test nazionale, 100 minuti, 60 domande, risposta multipla. Poi la correzione viene fatta non da noi, dal Cineca a Bologna. I compiti non sono predisposti da noi, ma sono predisposti dal Ministero attraverso il Cineca. Poi si farà una gradutoria nazionale e i ragazzi, o i ragazzi, a me, mi sembra di vedere una straordinaria preponderanza di candidate femmine. Scegliono dove andare. Noi abbiamo a Udine 148 posti per studenti comunitari, più due posti per studenti extracomunitari. Qui a Udine adesso stanno facendo domande 470 candidati, però è una distribuzione solo per provincia di residenza, quindi non sappiamo quanti di loro avranno Udine come prima scelta, né quanti saranno i ragazzi che altrove in Italia avranno Udine come prima scelta. Si parla tanto della carenza di medici, soprattutto nell'ultimo periodo. Avete riscontrato un aumento nei partecipanti a questo test? Il numero dei partecipanti al test è relativamente costante negli ultimi anni. Anche quest'anno dovremmo essere oggi circa 60.000 che fanno domanda per 14.000 posti. Il numero di posti è aumentato in maniera significativa. Noi a Udine da 5 anni fa avevamo 80 studenti e adesso ne abbiamo quasi raddoppiati, a parità di docenti tra l'altro. Se non ci saranno clamorosi investimenti di personali e di strutture, non credo che potremmo aumentare ulteriormente. Ed ora siamo pronti a ricollegarci con il Lido di Venezia dove la nostra Giorgia Bortolossi sta seguendo da stamattina la mostra del cinema per una lunga giornata che ci porterà stasera ad un grande speciale in onda sudinese TV. Buon pomeriggio Giorgia, vedo che c'è ancora gente in costume alle tue spalle. Sì, sì, siamo proprio al Lido Lido, cioè sulla sabbia, sulla spiaggia. Siamo pronte mare rispetto all'hotel Excelsior che è assolutamente una struttura centrale all'interno della mostra del cinema perché qui si tengono tutti gli eventi collaterali. Rientriamo un attimo in studio e cerchiamo di perfezionare l'audio con la nostra Giorgia, con il microfono che ci dà qualche problema. Proviamo a riassettarlo e poi siamo pronti a tornare da lei come ci stava raccontando questa giornata ancora di red carpet con tanti protagonisti, film e pellicole molto interessanti che stanno venendo proposte al pubblico e poi naturalmente i VIP che stanno affollando il Lido di Venezia. Giorgia, eccoci, siamo pronti a tornare da te. Sì, vediamo se non mi sentite. Sì, dicevamo, tanti film e il Friuli Venezia Giulia che quest'anno è particolarmente protagonista. Proprio qui, pochi minuti fa, abbiamo conosciuto Lorenzo Fabbro, un ragazzo di 31 anni, di Pozzecco, di Bertiolo, cresciuto in Friuli, poi ha studiato a Torino, ha studiato a Sarajevo e quest'anno è entrato nel concorso della settimana internazionale della critica nella sezione dedicata ai cortometraggi. Andiamo ad ascoltarlo, intervistato da Nicola Angeli. Con Lorenzo Fabbro, regista friulano, autore di Puyet, qui alla sezione SIC et SIC all'interno della settimana internazionale della critica per i corti. Che prodotto è Puyet, Lorenzo? Allora, Puyet è un cortometraggio di genere documentario girato in Romania che narra la storia di un bambino di 9 anni che si chiama Nikushor che vive in un piccolo villaggio della Transilvania ed è, diciamo, un bambino che vuole essere un adulto e quindi cerca, come penso noi tutti, il proprio posto nel mondo. All'interno della sezione ci sono sette corti in concorso e c'è la sfida, il challenge, con la triestina Margherita Panizzona. Senti aria di derby? Sì, sento aria di derby ma è un derby dell'amicizia perché non è, insomma, tanto per dire, ma Margherita è veramente un'amica tant'è che io stesso ho preso parte al suo corto perché ho fatto l'aiuto regia, quindi, insomma, sono molto contento di essere qui assieme a lei e che entrambi siamo stati selezionati con i nostri progetti. Certo che lo ricordiamo perché è sempre del Friuli Venezia Giulia come le lumache, è corretto, a cui ci informi, hai partecipato anche te quindi sei in una situazione di win-win. Sì, esatto, ma diciamo che per, insomma, già essere qui, già essere stati selezionati qua è una vittoria, quindi poi da qui in poi tutto quello che arriva è un di più ma, insomma, la grande gioia deriva semplicemente dall'avere l'opportunità di presentare questo piccolo film in questa cornice meravigliosa. Per quanto riguarda il Friuli, poi ci sono altri protagonisti che andremo a scoprire nel corso di questa giornata, ma poi capita di imbattersi anche in autentici miti della TV. Ora, se vi dico Daniel McVicar, non vi verrà in mente nessuno, ma se vi dico Clark Garrison di Beautiful, credo che molti di coloro che ci stanno ascoltando se lo ricordino e come era qui, è qui oggi a Venezia e nel primo pomeriggio è stata presentata una serie TV, Sport Crimes, di cui è protagonista e abbiamo scoperto che un po' di cose di Udi ne le conosce, sentite. No, abito a Torino, io sono un papà di un bimbo di dieci anni che gioca basket e per quello è un po' americano, ma anche in Italia ci sono tanti giocatori di basket qui e io sono italiano in questo senso, forse il mio pronuncio è un po' torinese, si sente, ne? Abbastanza, ma hai visto qualche film? Che cosa ti piace di questa atmosfera qui a Venezia? No, a Venezia è una meraviglia, certamente Venezia senza il Festival è bellissima, ma durante il Festival, questo è per quasi 80 anni, 79 anni, è un posto per il mondo venire qui e apprezzare il film e anche tutta l'industria del film italiana viene qui durante questi 11 giorni e ci sono incontri e tutto quello, ma per me anche mi piace andare a vedere il film, l'ho visto in viaggio, un documentario su di Papa Francesco e i suoi viaggi, ieri è stato bellissimo, di Gianfranco Rossi, questo è per la RAI, e stasera vado a vedere Gianni Emelio, il suo film, Signore delle Formiche, Formiche? Formiche, voglio dire, perché sono un po' Stanley Olio, ma per me è con colleghi, film, ma anche promozioni certamente di un progetto di cui sono molto felice di essere una parte. Hai detto che a Udine qualche volta ci sei stato? Devo venire di più, che cosa faccio a Udine? Ti invitiamo allo stadio, alla Dacia Arena, ti piace il calcio? Sì, 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 sì. Allora ti invitiamo. Ma c'è una squadra anche di basket a Udine. Sì, sì, a due. Sì, a due, sì, forse giochiamo con Torino basket contro Udine ogni tanto, ma è forte Udine. Abbiamo giocato settimana scorsa in una cosa amichevole, Udine è forte, questo lo so, ma sì, sì, sì. Allora ti aspettiamo là, io ho una curiosità, quanta gente mentre cammini per le strade in Italia ti ferma dicendo Clark? Nessuno mi conosce. Non ci credo. Dicero Ridge, Ridge. Cioè nel senso te la porti dietro Beautiful? No, ma questa è una parte della mia vita, certamente qualcuno conosce il mio nome, qualcuno conosce come Clark, qualcuno mi conosce come Ridge, anche questo capita. è una parte della gioia della vita. Io continuo a fare altri progetti, ho fatto tre film quest'anno, questa serie TV Sport Crime, ma ho fatto tre film già quest'anno, sono molto contento, come un attore io sono mai soddisfatto, ma anche sono felice quest'anno perché continuo a creare personaggi interessanti, ho fatto già un marito in una situazione difficile, un prete e un re. è la vita di un attore. Chiudiamo David con un po' di belle donne, ce ne sono tantissime, abbiamo incrociato tantissime influencer che si fanno fotografare anche su questa scalinata poco fa, ce n'era una, miss, modelle, aspiranti attrici, insomma tutte vestite benissimo, insomma tante davvero. Poi arriva la star e il nostro Francesco Tecchio stamattina, appena arrivato, ha avuto il merito di beccarla subito. Penelope Cruz è scesa dal taxi, il nostro Tecchio era lì e l'ha immortalata in tutta la sua bellezza semplice, se vogliamo, abito bianco, molto estiva, molto sorridente, molto disponibile, insomma è così, ve la facciamo vedere direttamente dalle telecamere di Udinese TV. Vi do appuntamenti ai prossimi appuntamenti con il telegiornale ovviamente questa sera e poi questa sera a partire dalle 21.15 lo speciale in diretta insieme a Nicola Angeli al Poma per raccontarvi ancora di più quello che succede verso sera perché qui adesso si cominciano ad aumentare i ritmi. Tra poco. Grazie, grazie, tieni a bada sia Nicola Angeli sia Francesco Tecchio, ci risentiremo nell'edizione delle 19 con ancora collegamenti dunque per questa grande giornata al Lido di Venezia. Noi siamo in chiusura, a proposito di appuntamenti, l'informazione ritornerà live a partire dalle 19 con il nostro TG Sportivo, seguito dall'edizione serale del notiziario e dal TG di Porrenone Provincia e poi per quanto riguarda la prima serata, come detto dopo lo speciale campionato primavera, la mostra del cinema di Venezia, 79esima edizione, una serata tutta da vivere su Udinese TV. Grazie e buon pomeriggio a tutti.